Ciao mamma, ho quasi finito la tesi, domani ultimo esame e poi ci siamo, sei ufficialmente invitato alla festa di laurea, convince anche papà a venire, non mi laureo tutti i giorni, vi aspetto! Perfetto, inviato, anche questo è fatto. Peccato che la realtà sia diversa e io stiamo intendo anche agli unici che in questo momento potrebbero aiutarmi. Ma come posso chiedere aiuto a coloro che mi hanno donato la vita proprio nel momento in cui maledico quel dono e vorrei solo sbarazzarmi di esso? Come posso parlare loro di tutto quello che non va confessando loro la verità? Non farei altro che deluderli. Ho fallito, sono una delusione. Aveva ragione chi non credeva in me, chi mi diceva che non avrei concluso nulla nella mia vita. Aveva ragione chi criticava il mio carattere. Troppo insicura, troppo timida, mi dicevano. Troppo ansiosa, lascia perdere, l'università non fa per te. Avevano ragione mamma e papà quando mi ripetevano che non sarei stata abbastanza responsabile e non avrei avuto abbastanza coraggio per affrontare l'ambiente universitario. Loro mi conoscevano e forse dietro quelle parole che mi hanno sempre ferita si celava solo il desiderio di aiutarmi. Avevano ragione gli amici che mi hanno lasciata sola. Si meritano di meglio di qualcuno che risponda sempre no, oggi non posso uscire, devo studiare. Aveva ragione il mio ragazzo quando mi ripeteva che non davo le giuste priorità a cose e persone nella mia vita. Brava, complimenti davvero. Non sei riuscita a raggiungere i risultati che speravi e hai perso anche le persone che tenevano davvero a te. Hai fallito e ormai è troppo tardi per tentare di recuperare qualcosa. Sono troppi gli sguardi che non voglio più incrociare, così tanti che voglio solo chiudere gli occhi per non vederli mai più. Almeno sarò certa di non deluderli ancora. Ho provato a vivere una vita distante, a scappare dal tempo, ma non ci riesco. E allora quali soluzioni mi restano? A ogni respiro sento il peso del mondo sulle spalle. Il dolore che mi opprime cancella ogni occasione di essere felice. E allora mi sembra che non ci sia altra strada che quella di morire per vivere. Mi chiedo ancora che cosa stia aspettando. Ogni minuto diventa eterno quando vivere sembra così simile a morire. Ultimo tratto di strada da percorrere, a piedi nudi sul filo, il filo della vita, come un funambolo. L'equilibrio è un miracolo, destinato ancora a durare per qualche istante. La cima del palazzo è immersa nel silenzio. Sotto di me c'è il vuoto. Tra poco un buio definitivo sostituirà quello provvisorio. Rivolgo il viso verso l'alto per l'ultima volta, urlando al cielo che non mi resta nulla per vivere. Ho chiesto perdono a tutti quelli che sentiranno la mia mancanza, ai miei genitori, ai miei amici. Ma non riesco ad andare avanti. Ho troppa paura del mio futuro. Sono un peso per tutti e più che mai per me stessa. Basta un passo per dire addio e abbandonarmi definitivamente all'abbraccio del nulla. Ma il lettore si rifiuta di accettare l'epilogo della vicenda. La storia non può finire con la morte del protagonista. Si ripete che le storie devono terminare con vissero tutti felici e contenti. Come le fiabe che la mamma gli leggeva da bambino e non con un addio. Vorrebbe intervenire lui stesso, scuotere la ragazza, urlare per farle cambiare idea. Ma tutti sanno che le parole sono inutili davanti agli occhi di chi ha già deciso. E allora, per una volta, se non è possibile cambiare la realtà, torniamo indietro e immaginiamo, riscriviamo la nostra storia e accontentiamo il lettore con un lieto fine. Ciao mamma. Scusa se non mi sono fatta sentire tanto in questi giorni. Sono stata un po' impegnata. Sai, stavo cercando di raggiungere gli obiettivi che mi ero prefissata nello studio. No, no, basta mentirti ormai che senso ha. Stavo pensando a me, forse un po' troppo intensamente e anche in modo negativo. Negli ultimi anni ti ho nascosto davvero troppo di me, ma cerca di capirmi. La mia era solo paura di deluderti. Il sogno di vedere tua figlia laureata è qualcosa che dovrai inseguire ancora un po'. Ti ho mentito. Non manca così poco alla mia laurea. Sono rimasta indietro con gli esami e la tesi, beh, la tesi non l'ha ancora cominciata. Scusami se ti ho deluso. Ancora prima di deludere te ho deluso me stessa. Non so cosa mi stia dando la forza di chiederti aiuto. Sì, aiuto, perché ero davvero un passo dal compiere quel gesto, dal fare quel salto nel vuoto che non mi permetterebbe ora di essere qui a parlare. Eppure, mentre ero lì, in equilibrio come un funambolo, ho visto dei bambini giocare e mi sono fermata. Ho visto passare davanti a me tutta la mia vita. Ho ripensato ai momenti felici spessi erati che avevo vissuto. Con te, con papà, con i miei amici. E mi sono bloccata. Ho capito che forse questa vita può regalarmi ancora momenti belli come quelli, che ancora vale la pena di inseguire i miei sogni, che se anche fallirò potrò sempre rialzarmi. Allora sono tornata a casa e ho deciso di dirti la verità.